Il villaggio di Natale e Flover compie 20 anni e festeggia regalando un'edizione in grande stile, proponendo un villaggio con decorazioni originali ed eventi legati alla festività più amata. Il viaggio del Natale e Flover inizia in una biblioteca speciale ricca di ricordi e prosegue passo dopo passo con il tema del 2016, una vera e propria fabbrica di giocattoli. Si prosegue nella piazzetta del villaggio tra le tante bancarelle che spongono decorazioni di ogni tipo e dove si possono scorgere alcuni artigiani al lavoro. Per non perdere nulla sui trend del momento ci sono le Christmas Room, con i colori tendenza della stagione, lo scandinavo, lo scozzese e il barocco. Per i più piccoli, Babbo Natale in persona sarà poi presente tutti i giorni e il mercoledì si fermerà a cena con loro. A tutti i bambini che andranno a trovarlo al villaggio di Natale, il sabato e la domenica, per salutarlo e portarli la letterina con i loro desideri, regalerà anche una chiave magica. Grazie alla collaborazione con il Museo Nicolis, il villaggio di Natale si arricchisce inoltre di un'esposizione di auto d'epoca. Il villaggio di Natale e Floper vi aspetta fino alla metà di gennaio.